Visioni Sociali si occupa di comunicazione audiovisivo sociale, la finalità è quello di cambiare il linguaggio sociale, di provare a cambiare il linguaggio sociale. Se avessimo questo bus noi ci piacerebbe fare un ristorante multietnico, praticamente toglieremmo tutti i sedili realizzando tavoli con sedie e in fondo una cucina, una piccola cucina a vista nella quale si alternerebbero vari cuochi che propongono cucine sia regionali che internazionali. L'idea è quella di mettere in relazione varie realtà che lavorano nel sociale e anche i centri anziani e i centri giovanili per far incontrare la gente intorno al cibo e farli conoscere culture e realtà diverse.